Il titolo dell'installazione è Aima Aima perché lui ha voluto fare questo gioco di parole con il nome di Ama e Aima anche perché in antico... Attenzione, se per favore... Grazie Ah no, non è il trucco, è il trucco Potete... quindi ha questo colore rosso e ricorda il colore del sangue del colore del vino e ecco, ci ha costato E poi le dicevo, ha le paventi per favore E giù c'è due, sono venute la settimana scorsa Sono ancora lì, sono a bere però... va bene E che c'è un gas? Questa ispirazione per questa forma rotonda da tutte le forme rotonde che si trovano sul filtro Si trova il collegamento del colore rosso del sangue, del vino E anche il colore... insomma la forma del corpo di Cristo Quindi c'è questa... che dire... Si ha trovato questo collegamento Questo ambiente, questo collegamento Qualcosa di molto riflessivo No, c'è la luce sotto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti